Paris Hilton zietta perfetta per Lily Grace, il party a tema unicorno Quando si tratta di coccolare Lily Grace, l'adorabile figlioletta della sorella Nikilton Rothschild, Paris non bada a spese e dà libero sfogo alla sua fantasia. All'ultimo baby party i protagonisti indiscussi erano gli unicorni e, naturalmente, i bambini felici Paris Hilton, adorabile zia e futura mamma super Paris Hilton lascia che la sua anima di bambina esca allo scoperto e organizza baby party da sogno insieme alla sorella Nikki. Tutto rigorosamente per Lily Grace, il tema della festa erano i palloncini e gli unicorni arcobaleno I colori che hanno dominato questa festicciola sono, nemmeno a dirlo, il fucsia e il bianco, in perfetta armonia con loro di alcuni dei dettagli sparsi qua e là D'altronde, se per i suoi cani Paris Hilton ha costruito una magione in muratura, non possiamo che aspettarci il meglio del meglio per la sua nipotina Solo qualche giorno fa Nikilton Rothschild aveva menzionato alcuni dei piccoli lussi dell'avere una sorellina come Paris Nel corso della sfilata a Monza e alla New York Fashion Week, le sorelle sono state intervistate dalle. News, e sono emersi i dettagli del loro rapporto ora che è arrivata in casa una nuova, meravigliosa microprincipessa Quando viene a provarci, Paris porta sempre regali deliziosi. Abitini, giocattoli, bambole e Lily Grace è sempre super eccitata quando arriva l'azia. Colta in flagranza di reato, Paris ha sorriso e ha confermato tutto, adoro viziare Paris Hilton, è tempo di mettere su famiglia? Da quando Lily Grace è arrivata nella sua vita, Paris Hilton ha sentito dentro di sé qualcosa era cambiato, per sempre Ora che finalmente la splendida socialite ha trovato un uomo fedele a cui, a detta sua, affiderebbe tutta la sua vita, senza condizione, è tempo di sistemarsi e mettere su famiglia Shriz Zilka è l'uomo giusto con cui Paris vorrebbe avere dei figli, e Lily Grace, anche se indirettamente, ha innescato il bisogno di Paris di dedicarsi alla famiglia La adoro, spiega Paris, è la bambina più perfetta che io abbia mai visto, ha queste labbra da Angelo, e questo nasino perfetto, e quei grandi occhi blu. Vorrebbe tanto parlare, sta ancora imparando, ma vorrebbe davvero parlare Non vedo l'ora di avere dei bambini tutti per me, spiega Paris al Daily Mail, con i bambini, mi diverto sempre tantissimo. Ho trascorso ore indimenticabili a Ibiza per il Foam and Diamonds for Kids Vedere le loro faccine sorridenti non apprezzo, e mi ha fatta sentire profondamente grata di avere Shriz al mio fianco. Anche lui adora i bambini quanto me, quindi sarebbe davvero bello fare insieme questa straordinaria esperienza Avere un figlio deve essere una sensazione speciale Avere un figlio deve essere una sensazione speciale